Serrano raccoglie e lancia, Beck sta per fare il punto e Parkman tocca ora la terza. Rilancio di Miller, l'hanno incastrato, Parkman è cotto. La palla va persa. Benvenuto in Major League, contadino. È pericoloso stare sui binari quando passa il treno. Seconda parte del quarto, Serrano sventola ma manca la palla ed è di nuovo fuori. Buon lancio. I corridori aspettano il lancio come avoltori. Eccolo, è tolto la pace lontano nel campo destro. Prevedo guai, la palla si sta avvicinando al muro. Ace corre, ma corrono pure i corridori. La presa! E così gli Indians hanno scippato tre punti ai Sox. Il grande Ace ha superato se stesso.